Eravamo in piazza oggi contro il DDL ZAN sotto al Senato, ci siamo posizionati come ci hanno fatto posizionare le forze dell'ordine dopodiché dopo 5 minuti di manifestazione sotto al Senato le forze dell'ordine ci hanno caricato noi eravamo qui in modo pacifico, assolutamente lo dimostrano i video eravamo qui con dei bavagli rossi simbolo di una legge liberticida che non deve passare ma la polizia subito ci ha manganellato, hanno messo le mani addosso a donne e ragazzi minorenni tutto ciò è inaccettabile, se pensano di fermarci in questo modo non ci fermeranno saremo qui anche la prossima volta, saremo qui sempre contro una legge che non deve passare